Buonasera, cerchiamo di iniziare puntuali questa serata con doppio apparato fazziano, perché si usa il sistema della cattedra a fianco, un po' più in basso l'orba, qui ce ne sono due, quindi abbiamo da entrambi i lati. Questa sera discutiamo del libro di Dario Di Vico e Gianfranco Viesti, edito per il Mulino, da pochissimo è uscito credo in questi giorni. Esce domani da un titolo che si ricorda facilmente, perché il titolo è Cacciavite, robot e tablet, come far ripartire le imprese. Sono due tesi che si confrontano e poi c'è un panel composto da, nell'ordine a mia destra, il direttore Ferruccio De Borteri, il professore De Centro Cipolletta, il viceministro Claudio De Vincenti, che ne discutono, giudicano. Secondo gli autori questa doveva essere una sorta di giuria, come nei film americani, colpevole, non colpevole, per le proprie idee, sarebbe un po' forte. Però se ne discute, perché il libro si divide in due parti, appunto la prima ad opera del professor Viesti, la seconda autore Dario Livico, qui di casa, la prima politica industriale quadrato magico, la seconda politica industriale sì, ma on the road. In sostanza il tema ridotto all'osso dovrebbe essere, tutti parliamo di politica industriale, ma cos'è e soprattutto come si fa. E quindi si vorrebbe, io uso il condizionale e poi vi spiego anche perché, si vorrebbe confrontare una tesi, e qui merito o colpa è del professor Viesti che viene un po' etichettata come una tesi più interventista, una tesi che vede nello Stato, comunque nella mano pubblica, comunque nell'apparato pubblico, un intervento attivo, teniamoci subito una parentesi, intervento attivo che non giunge mai al punto di proporre massicce rinazionalizzazioni. C'è un punto nella trattazione in cui il professor Viesti con una grande savoir-faire e quasi così delicatezza, dice questo non vuole dire che sia assolutamente bandito, ma non è insomma la ricetta ovviamente principale. E una parte dovuta di Vico, quale la politica industriale, è vista come una politica industriale, dice un derodio di mercato, cioè a quanto ho capito una politica industriale, primo che individua i suoi obiettivi, i suoi strumenti, anzitutto attraverso l'osservazione di quello che avviene, che è avvenuto in Italia e all'estero, secondo che cerca per affermarsi di camminare con le proprie gambe e di suscettare forze endogene che la portano in avanti. Io sono un non addetto ai lavori e si capisce in questa presentazione, ma devo dar conto del perché ho usato prima il condizionale, due parti che vorrebbero illustrare, due punti di vista eccetera, perché in realtà nella parte del professor Viesti numerosi sono gli spunti in cui si attribuisce importanza a un'iniziativa che viene dai stessi ambienti interessati che sappiano secondarla eccetera. Dall'altra parte, nella parte di Di Vico, in molti punti si dice, intendiamoci che alcuni provvedimenti, alcuni interventi di quadro e di contorno che si inseriscano però in una scelta che viene dal mercato, dall'osservazione della realtà che si è dimostrata vingente, guardate che non fanno neppure male, insomma non è un buon motivo per bandirle a priori. Devo dire che entrambi i contributi, questa almeno è una mia opinione personale, ma credo che tutti chi legge e chi ha letto e chi leggerà condivide, sono scevri da incrostazioni ideologiche a priori, cioè da assunti e da atti di fede a priori, ma argomentano sulla base di una realtà, di una serie di ragionamenti. E allora seguiamo l'ordine e cominciamo a sentire qual è la tesi del professor Viesti, dopo che sarà Di Vico che controbatte o affianca le proprie valutazioni e poi i signori illustri qua a fianco rifolgeranno le proprie osservazioni e in modo che poi i due autori, ultima parola alla difesa, possano a loro volta completare il quattro e discolparsi dalle tante o poche accuse che ciascuno riceverà. Prego, professor Viesti. Grazie, grazie molto e buonasera a tutti, grazie alla Fondazione Corriere della Sera per questa occasione di discussione di un libro che esce domani. Grazie agli autorevolissimi giurati di essere qui, mi appello immediatamente alla loro clemenza affinché il giudizio sia buono nei confronti di chi prova a ragionare. Quello che ci unisce ed è importante è una preoccupazione sulle sorti del sistema industriale italiano e sull'opportunità di ragionare intorno a queste sorti. L'industria è fondamentale, è stata fondamentale, è fondamentale nello sviluppo economico italiano, l'industria genera l'innovazione, l'industria consente le esportazioni che sono quelle che poi ci fanno comprare quello che ci serve, l'industria è la grande cliente dei servizi avanzati, l'industria italiana è in difficoltà sensibile, è in difficoltà sensibile negli ultimi anni con la grande crisi, ma lo era già da prima. È in difficoltà sensibile per due grandi motivi, uno è che non c'è domanda, quindi il mercato interno che comunque è importante anche per le imprese che esportano è fermo da troppo tempo, questo è un argomento importantissimo di cui noi non ci occupiamo. Noi ci occupiamo invece del secondo motivo per cui è in difficoltà l'industria italiana, che è, si potrebbe dire, condizioni di offerta, come funziona l'industria italiana. Molti numeri che non citiamo ci raccontano che l'industria italiana non va sufficientemente bene, sufficientemente quanto vorremmo, sufficientemente quanto sarebbe necessario per creare posti di lavoro, come prima, insomma ci sono degli indizi, tanti studi che ci dicono che qualche problema c'è. La domanda è, dobbiamo osservare queste tendenze limitandoci a incrociare le dita e a sperare che le cose vadano bene o possiamo provare a fare qualcosa? La mia personale idea, opinabile come tutte le idee, è che è troppo rischioso aspettare e vedere e che invece bisogna provare a fare qualcosa, innanzitutto riabilitando il termine politica industriale, che è una delle politiche che si possono fare, che tutti i paesi avanzati fanno, fanno ancora di più nell'ultimo quinquennio, a cominciare dagli Stati Uniti, e che naturalmente è opportuno immaginare per l'Italia. Naturalmente i problemi cominciano adesso, perché se io dico autostrada, tutti capiscono a che cosa faccio riferimento, a un nastro di asfalto. Se io dico politica industriale, ciascuno ne ha l'interpretazione che vuole, quindi la discussione è più quale politica industriale, piuttosto che sì o no. Lo scarso dibattito italiano è molto condizionato dalla discussione sul sì e il no, c'è un approccio molto ideologico, rispettabile come tutti gli approcci, che nega a priori qualsiasi opportunità di politica industriale. Ne prendiamo atto, io personalmente da pragmatico trovo più utile ragionare sulle cose precise. Il mio punto di ragionamento è questo, non è l'impresa italiana o il distretto italiano che va male. L'impresa italiana non esiste, le imprese italiane sono molto diverse fra di loro, questa diversità dei risultati dell'utile di bilancio del fatturato è molto aumentata, c'è una fetta di imprese italiane, un quarto, un terzo, che va bene nonostante tutto, c'è una parte, ahimè, maggioritaria di imprese italiane che non va bene. Questo mi preoccupa molto, perché l'industria è difficile da costruire, ma una volta che la si è persa è impossibile da riconquistare. Ci sono tanti motivi per cui mantenere una cultura industriale è molto importante. Allora, che fare? La mia personale idea è che la politica industriale debba partire da un dato di fatto, e cioè che in media le imprese italiane non sono gli imprenditori impazziti o diventati stupidi, hanno avuto molte più difficoltà di prima ad adattarsi al mondo che è cambiato. Il mondo è cambiato molto, è arrivata la Cina, è arrivata l'Euro, è arrivato Internet, ci sono dei cambiamenti che noi all'università chiamiamo esogeni, di quello che è successo fuori, e molte, troppe delle nostre imprese non sono state in grado di adattarsi virtuosamente. Allora andiamo a studiare quelle che ce l'hanno fatto e che cosa troviamo nelle imprese che ce l'hanno fatto? Beh, troviamo, e qui nel libro abbiamo inserito questo termine per fare un po' di marketing, questa idea del quadrato magico. Cioè, le imprese che ce la fanno rispondono sempre alle stesse caratteristiche. Su due lati del quadrato hanno due condizioni abilitanti, cioè due modi di essere che consentono loro di fare meglio delle altre. Queste condizioni abilitanti sono da un lato sufficiente capitale, sufficiente dimensione finanziaria, sufficienti risorse finanziarie proprie, perché queste rappresentano una, quindi una dimensione delle imprese sufficiente. La dimensione non è un fatto astratto, nessuno pensa che bisogna avere mille, cinquanta, cinquecento, quello che serve è che le imprese siano in grado di raggiungere una dimensione. La politica industriale non ha a che fare, se posso usare questi termini di gergo, con l'allocazione statica delle risorse, per cui qualcuno a Roma decide si farà così, cento nella siderurgia, cinquà. Ha a che fare con la dinamica, deve aiutare questi processi. Quindi il primo lato è quello della dimensione delle imprese, in termini finanziari, in termini di capitalizzazione. Il secondo lato, che è secondo me il più importante di tutti, è la presenza nelle imprese di sufficienti risorse umane di qualità. Quello che ha caratterizzato il nostro successo per decenni è stata la capacità di farcela anche avendo nelle imprese una quantità di professionalità elevate, relativamente limitata, perché le nostre imprese funzionavano bene con i periti industriali, la conoscenza si passava di padre in figlio, ci sono molti motivi, la Banca d'Italia ce lo ripete, ogni impieso spinto, per pensare che nel mondo di oggi questo non sia sufficiente e che ci vogliano nelle imprese più persone con un livello di formazione maggiore. L'università non è tutto, ma per intenderci, quello che colpisce nella differenza tra Italia e Germania non è che nelle imprese i tedeschi siano così più grandi di quelle italiane, ma le imprese tedeschi sono molto più piene di laureati, i manager tedeschi sono nella maggior parte dei casi laureati, in molti casi ingegneri, e questo fa la differenza. Queste due condizioni abilitanti a che devono servire? A fare quello che tutti, vorremmo che tutte le imprese facessero, da un lato crescere sui mercati del mondo, ce l'abbiamo sempre fatta, perché adesso è diverso? Perché i mercati del mondo sono diversi, perché prima bastava prendere l'aereo, arrivare in Germania e più o meno ce la si faceva facilmente, adesso bisogna andare in Cina, bisogna andare in America Latina, mercati lontani, servono manager e risorse per poter investire su questi mercati. E' impressionante la differenza di performance che c'è fra noi e i tedeschi proprio in Cina, che dipende anche da queste condizioni imprese. L'ultimo, quarto, ultimo lato del quadrato è naturalmente l'innovazione. Il sistema industriale italiano non è mai stato peggio degli altri. Non esiste un modello di capitalismo a cui adattarsi. Noi abbiamo avuto un capitalismo diverso, con pregi e difetti, che riusciva a fare meglio le cose che aveva sempre fatto, che riusciva a fare questa innovazione incrementale e a migliorare con tantissimi successi. Molto ci lascia pensare che questo, soprattutto i dati di fatturato delle imprese, ci fanno pensare che questo forse non sia più sufficiente e che quindi le imprese debbano produrre più innovazione in senso proprio. Non sognando che con la bacchetta magica qualcuno da Roma faccia nascere che so quale impresa innovativa, ma facendo per esempio quei processi molto pratici che da cavolo la Banca d'Italia ci racconta, di innovazione correlata. Io ero un produttore di cancelli di ferro, sono diventato un produttore di sistemi di sicurezza e di apertura, portare dentro le imprese conoscenze, portare dentro le imprese innovazione. e insomma, la mia personale idea è che per fare queste cose ci si possa provare. Nel libro sono elencati degli strumenti, delle strumentazioni concrete per arrivare a questi risultati, molto spesso prese dall'esperienza tedesca, dall'esperienza americana, dall'esperienza coreana, cioè dall'esperienza di paesi che queste cose le fanno da tempo. Chiudo il libro e chiudo i miei dieci minuti naturalmente con una domanda che va presa assai sul serio. Ma in Italia, oggi, che è di questo di cui parliamo, non è una discussione filosofica sulla politica industriale, ma molto concreta, siamo in grado di fare questo, di farlo? Questa obiezione va presa assai sul serio, io personalmente la prendo assai sul serio. Ci sono molti ostacoli, un federalismo disegnato male, quindi un disegno di competenze fra Stato e Regioni profondamente da rivedere, la presenza di istituzioni deboli, la presenza di pratiche burocratiche, alcune volte volutamente, che rallentano tutto questo, la politica industriale non è una legge, non è un bando, non è un proclama, è un processo che richiede anni, che richiede impegno politico, io non sono in grado di dire se l'Italia ce la può fare a mettere in atto questi strumenti, penso semplicemente che dal mio punto di vista sarebbe molto bene che lo facesse, le probabilità di un depauperamento della nostra industria diminuirebbero e al tempo stesso penso che valga la pena di provarci. Le politiche industriali sono strumenti da paesi seri, se noi partiamo dall'idea che l'Italia non è un paese serio, abbiamo già perso, non solo l'industria, ma tutto. Mettere in atto delle buone politiche industriali come un processo trasparente che si autocorregge e una grande riforma strutturale che ci serve, una di quelle cose che si può provare a fare senza il lume dell'ideologia, ma molto con le mani in pasta, dialogando con le imprese, cercando di capire pragmaticamente quello che serve. Io credo che sia un tentativo da fare, che valga la pena provarci, guardando quello che fanno gli altri, guardando come vanno le cose da noi, ma questa naturalmente è una delle due opinioni espresse nel libro che ho riportato all'autorevole giuria qui presente e al pubblico. Grazie. Divico, subito. Allora, essendo un giornalista vi avviso su uno dei vizi della categoria, si dice sempre che i giornalisti sono quelli che spiegano con dovizia di particolare delle cose che hanno appreso solo il giorno prima. Quindi, con questo caveat vi racconto un po' le cose, il mio punto di vista che è diverso dal punto di vista di un economista e di un docente universitario perché è un punto di vista preso sulla strada. On the road, quindi, non solo come un'indicazione di una politica industriale che si fa via via, passo dopo passo, ma perché è anche frutto della ricognizione fatta ogni giorno, magari discutendo con alcune delle persone che sono qui oggi in veste giudicante. Il ragionamento di fondo qual è? Noi una politica industriale dall'alto l'abbiamo già pensata, fatta, decisa e teoricamente portata avanti. C'era un ministro che in quel caso aveva addirittura una struttura che gli rispondeva veramente e si chiama 2015. Voi avete letto ultimamente, negli ultimi due anni, un articolo su Industria 2015? No, perché Industria 2015 è morta e non è stata mai sepolta degnamente. E non è un caso, perché? Non è morta perché, come dire, chi l'aveva concepita e chi l'ha portata avanti non avesse, come dire, un buon proposito, non si fosse mosso con i giusti indirizzi e per di più aveva un vantaggio enorme, perché l'aveva concepita, non dentro questo maremoto che noi viviamo da anni. Non è andata avanti perché non esiste il modello, o sicuramente in Italia non funziona, di un grande pensiero strategico in sede ministeriale che riesce ad allocare investimenti in settori strategici e fa partire nuove imprese. Questo è bellissimo da scrivere, probabilmente, io dico sempre che siccome tutti hanno paura della mazzoccatola e hanno ragione, negli Stati Uniti questo è potuto anche avvenire grazie ai grossissimi investimenti nella difesa e le ricadute che ha avuto nel privato, da noi questo schema non funziona, anche volendolo. Da noi un pensamento ministeriale finisce al piano di sotto del ministero e mentre come dire si fanno pensamenti ministeriali fortunatamente c'è l'on the road, ci sono le cose che succedono per cui noi abbiamo avuto mentre l'industria 2000 faticava e attenzione non è tutto a colpa di Scaiola che è troppo facile darla a colpa a Scaiola mentre faticava succedevano delle cose importanti per esempio l'industria farmaceutica italiana diventava quella che al mondo ha guadagnato in export in questi anni più di tutte le altre e allora quindi per questo dico il principio che noi abbiamo di fronte non è tanto quello di un nuovo pensamento strategico su dove allocare degli investimenti che peraltro non ci sono si tratta di capire che cosa di fare fuoco con la legna che c'è anche perché c'è della buona legna io ho provato qua e là a trovarla questa legna e a individuare se in un caso o nell'altro questa legna poi avesse bisogno di un upgrading di un miglioramento di un salto culturale anche perché le discontinuità sono notevolissime allora le banche le banche possono essere coinvolte in una politica industriale si può rispondere già lo sono c'è tutto il meccanismo che noi giornalisti chiamiamo l'officina riparazioni cioè le imprese di cui le banche si devono intrigare in termini di politica industriale perché hanno grosse sofferenze ecco qui adesso non la faccio lunga nel libro racconto alcuni casi è una battuta che le banche poi non sono riuscite in grandi operazioni se non quando hanno incocciato un imprenditore che ha avuto la capacità di uscire dall'officina riparazioni con una forte soggettività Prado e Piaggio sono i due casi quando non c'è stato l'imprenditore la mancanza di software delle banche in politica industriale si è vista con una battuta che mi è stata fatta da una persona vicina a questo mondo si vede che poi nelle banche mancano gli ingegneri cioè manca una capacità di una cultura industriale che non sia solo quella della diversa allocazione del debito o della ristrutturazione in tempi più lunghi le multinazionali qui forse è il punto su quale c'è maggiore divisione io penso che noi siamo da anni angosciati da questa cosa degli assetti proprietari cioè decidiamo le cose buone in base agli assetti proprietari allora io prendo un caso che è quello della San Pellegrino la San Pellegrino era condotta da una famiglia italiana che per carità insomma poi i mentasti sono state delle questioni un po' complicate vabbè comunque non è questa la sede viene presa dalla Nestlé la Nestlé prende la San Pellegrino e si innesta un meccanismo di questo tipo adesso io lo rendo un po' teatrale si riuniscono tutti i country manager della Nestlé del mondo e discutono come lanciare un'acqua a livello globale si alza il country manager dell'Italia dice io ho la San Pellegrino e spiega quali sono i vantaggi per Nestlé di lanciare quell'acqua nel mondo per carità in parte già c'era non veniva dal nulla si alza il country manager francese e dice che lui propone Perrie e che secondo lui la scelta deve cadere su Perrie si discute si sceglie alla fine che Perrie si assegna a Perrie un segmento di mercato e si decide che San Pellegrino è globale da quella decisione su San Pellegrino vengono convogliate risorse che non sono state estratte dal mercato italiano ma anche da fuori che fanno sì che San Pellegrino è quel fulgito esempio che è è chiaro che qui c'è un vantaggio in più l'acqua minerale le sorgenti non possono essere delocalizzate e quindi l'esempio è particolarmente calzante e a mio favore ma comunque è significativo che un country manager figure che noi ignoriamo in genere possa decidere un'allocazione di risorse che non vengono solo dal nostro mercato e possa fare della buonissima politica industriale perché non è politica industriale io ne ho discusso l'altro giorno con un mio collega dice ma questo esempio non è politica industriale perché perché ti manca lo stato perché tu politica industriale ne intendi politica statale industriale io salto il primo aggettivo politica industriale può essere non statale anzi nelle condizioni date è principalmente non statale e poi vedo che cosa intendo per statale e il discorso delle multinazionali è molto interessante l'ultima cosa mi è capitato appunto sulla vicenda San Pellegrino poi ho conosciuto il CEO della Nestlé Mondo il quale a un certo momento fa un'intervista e dice che lui vuol fare la stessa operazione San Pellegrino con la pizza Buitoni perché è impossibile che non ci sia un marchio di pizza surgelata italiana nel mondo la pizza Buitoni in Italia viene fatta in Campania allora se Nestlé decide di puntare su pizza Buitoni in Campania fa politica industriale o no cioè ma facciamogli un monumento se lo fa non solo la politica industriale ecco questi sono adesso io ho fatto un esempio sulle multinazionali vuol dire che in realtà noi dobbiamo costruire un nuovo schema di ragionamento sulle multinazionali forse anche di negoziato è fondamentale ciò che fanno sul territorio ciò che fanno per il paese ciò che le risorse che convogliano non il passaporto poi esistono comportamenti fair e comportamenti unfair ci sono multinazionali però noi non sappiamo nemmeno catalogarli io l'ho buttata lì ci sono anche multinazionali unfair lactalis tissen ma dentro questo ci sono molte altre multinazionali che in realtà sul nostro paese hanno creduto e sulle quali dobbiamo far leva perché sono scelte fondamentali se la Lilli Farmaceutici decide di di produrre in Italia l'insulina per la Cina capite che non è una questione secondaria non vi piace chiamarla politica industriale chiamatela come vi pare ma insomma come dire è qualcosa che sposta lavoro risorse occasioni da noi e quindi come dire sono elementi importanti vado velocemente il retail quando si parla del retail sembra che sia fuori dalla politica industriale io con una battodaccia dico che l'evento più negativo del capitalismo italiano non è stato tanto il declino di cuccia ma la nascita dell'Ikea cioè l'Ikea la dovevamo fare noi la dovevamo fare noi nel senso che quello era come dire l'estrema conseguenza del modello e della qualità italiana nella produzione dell'arredamento non l'abbiamo fatta non casualmente perché ci siamo beati della bontà dei nostri prodotti senza ragionare che quei prodotti devono arrivare negli scaffali giusti nel tempo giusto negli scaffali di tutto il mondo così che oggi lavoriamo un pezzo di distretti lavorano per l'Ikea e hanno bisogno dell'Ikea la dovevamo fare noi e ce ne siamo accorti che la dovevamo fare noi quando abbiamo come dire osannato Oscar Farinetti io faccio sempre il gioco del marziano un marziano arriva in Italia e domanda qual è l'imprenditore che voi come dire più elogiate in questo periodo noi gli rispondiamo Oscar Farinetti lui dice ma perché che ha fatto questo Farinetti e noi gli diciamo ha fatto una linea di supermercati fatti benissimo che vende i prodotti agroalimentari il marziano dice ma no ma siete dei fessi ci voleva Oscar Farinetti per arrivare a questa straordinaria straordinaria intuizione lo dovevate fare 30 anni fa e non l'abbiamo fatto 30 anni fa siccome non siamo tutti fessi evidentemente c'era qualcosa nella nostra cultura industriale che non ci permetteva di cogliere quell'elemento come se la distribuzione come l'intendenza verrà ma poi nel caso del mobile è venuta in un certo modo nel caso del food fortunatamente non è successo ma sta avvenendo per esempio nel caso diciamo dell'artigianato per la casa una volta quando eravamo giovani il ferramenta era il vero come dire mercato dell'artigianato c'era lì si decideva chi lavorava andavi lì e dicevi uno si prendevano commesse e così via oggi diventeranno i negozi Leroy Merlin e quindi che saranno i negozi degli artigiani perché lì ci sono come dire tutti gli elementi perché sia una piccola camera di commercio degli artigiani infatti vorrei fare il presidente di Leroy Merlin presidente di Red Impresa Italia che tanto forse fa meglio dell'attuale il retail e qui l'ho detto e mi avvio a chiudere poi nel retail ci sono delle novità attenzione che poi quello era il retail tradizionale oggi c'è l'e-commerce nel campo alberghiero che cosa sta succedendo con booking ed espidia è se booking ed espidia prendono il 20% è chiaro che l'albergatore già parte da meno 20 e quindi puntini puntini poi per dire in sostanza che poi le questioni del retail non rimangono ferme e quindi c'è un'evoluzione da seguire termino con un diciamo con la concessione a ragionamento invece dello Stato ed è il Fondo Strategico Italiano allora il Fondo Strategico Italiano nasce in un come dire in un turbinoso weekend di pioggia mettiamola così perché nasce come la risposta italiana del governo italiano contro la scalata della Parmalat e si decide in sostanza non solo una legge antiscalata che poi non funzionerà la Parmalat i francesi pagheranno l'OPA insomma però il Fondo Strategico Italiano nasce lì nasce lì e così in poche ore si mette su un tentativo per fare una cordata italiana per impedire la vendita ai francesi insomma tutte cose che la cronaca ha sepolto il Fondo è rimasto lì è interessante una cosa però il Fondo non è la Cassa Depositi e Prestiti perché la Cassa Depositi e Prestiti è direttamente un organismo dello Stato il Fondo Strategico Italiano almeno nelle intenzioni che stanno andando avanti è una cosa diversa perché prende capitali da più soggetti e soprattutto non fa il grande pensamento strategico di fare come dire l'investimento del Fondo Italiano nelle nanotecnologie partendo da zero partendo dal Ministero il Fondo Strategico Italiano ha identificato una missione che poi vedremo perché del Fondo Strategico se ne parla pochissimo che è quella di creare come dire delle altre multinazionali tascabili in quei settori italiani in quei settori in cui non ci sono c'è il sogno di fare la Ciga una nuova Ciga negli alberghi c'è il sogno di fare c'era l'idea nell'olio di fare una grande compagnia italiana c'è qualche ingenuità anche perché per esempio si sogna addirittura di fare un grosso raggruppamento italiano nel vino quando il vino è la quintessenza del capitalismo personale e non succederà mai ma insomma come dire nell'ambito della legna che ho scelto anche la legna del Fondo Strategico ci sta ci sta ma per me non è stato per me è politica industriale di mercato con uno strumento estremamente particolare che poi avrà come tutte le esperienze i suoi lati positivi i suoi lati negativi i suoi successi i suoi insuccessi ecco diciamo un po' questo è il ragionamento non statale di una politica industriale perché io penso che questo termine non lo si debba come dire destatalizzare perché altrimenti è una discussione che finisce lì che da vita a dotti pensamenti ministeriali in genere ci sono 7-8 fondazioni romane che in genere fanno dibatti sulla politica industriale finisce tutto lì come direbbe un noto finisce per i professionisti del buffet e non si fa un passo in avanti il mio ragionamento on the road è vediamo che cosa che cosa c'è utilizziamolo e se è possibile anzi deve essere possibile facciamo un'upgrading di cultura industriale perché non è vero che la cultura industriale italiana è scarsa ma non è vero che è del tutto aggiornata i ragionamenti sul retail e sull'e-commerce ne sono evidentemente il punto più chiaro da parte nostra l'opinione pubblica che deve fare secondo me sulle multinazionali estere deve fare un profondo cambiamento perché altrimenti come dire non si colgono tutte le opportunità che pure ci sono e che pure sono andate avanti con una grandissima difficoltà in questi mesi in questi anni la parola giuria la giuria comincia col direttore De Bortali che lavorando al giornale come di Vico è libera ci mancherebbe che vogliamo vincolare i magistrati intanto io comincio con un ringraziamento al Presidente di non averci dotato di una paletta con il voto perché questo ci avrebbe messo in fortissima difficoltà avendo di fronte due attenti osservatori della realtà economica italiana e da punti di vista diversi con conclusioni diverse ma con molti terreni comuni perché poi alla fine se si lavora seriamente si ha di fronte un obiettivo credibile si è seri si comincia un lavoro o si finisce perché poi Sorviesti lei diceva abbiamo grandi possibilità ci mettiamo lì facciamo le riforme ma noi abbiamo assistito in questi anni purtroppo a tante riforme dichiarate appena cominciate smentite nella realtà per cui anche l'annuncio di una riforma non crea più nemmeno quell'aspettativa economica positiva alla quale noi nelle nostre analisi ci aggrappiamo anzi ne innesta una di segno esattamente contrario allora se io devo scegliere fra le due tesi sono più vicino a quella mi scusi professore di Dario Di Vico ma non per il fatto che lavoriamo per lo stesso giornale ma perché io credo che la politica industriale era forse possibile auspicabile e ha dato dei risultati straordinariamente positivi e di questi giorni per esempio questa fiction sull'autostrada del sole che fu fatta in pochissimi anni pensate che cosa sarebbe accaduto se dovessimo cominciare adesso a costruire un'autostrada del sole la Salerno Reggio Calabria sarebbe un esempio positivo rispetto a quello che potremmo fare perché non ce la faremmo mai no quindi evidentemente era anche un paese diverso con meno vincoli ma anche con una grande voglia di crescere di competere che io non vedo io vedo molta rassegnazione molta sfiducia ma non vedo questa voglia che dovrebbe in qualche modo alimentare gli animal spirits di questo capitalismo allora io sono negativo sul fatto che si possa in qualche modo rilanciare una forma di politica industriale anche perché io mi domando ma il salvataggio dell'Alitalia è stato un esempio di politica industriale perché se è un esempio di politica industriale io dico grazie no non fatela ma a questa politica industriale ha partecipato il cosiddetto fior fiore del capitalismo italiano ma perché questi signori quelli che hanno partecipato e anche quelli che hanno promosso non si vanno a rivedere tutto quello che hanno detto in varie fasi della vita di questo paese e non ci dicono magari in un impeto di sincerità forse ci siamo sbagliati o forse investivano perché volevano riscuotere su altri tavoli che questo fosse pensare male no pensare male ecco perché quello che è accaduto poi sulla Parmat è ugualmente colpevole certo lì a un certo momento non ci si è accorti nel dibattito pubblico che un grande player dell'industria alimentare noi non abbiamo una Danone non ce l'abbiamo mai avuta però sono arrivati degli sconosciuti francesi che hanno visto che lì dentro c'era anche una grande cassa se la sono presa o sbaglio no? e forse li abbiamo persino ringraziati no? perché poi noi siamo estremamente bravi anche nell'applaudire quelli che ci lasciano no? perché vanno ad investire altrove noi li applaudiamo come se fossero degli eroi nazionali detto questo io dico molti degli episodi che sono accaduti in questi ultimi tempi segnalano l'impossibilità anche per la miopia della stessa politica no? di fare diciamo una politica industriale seria con degli obiettivi determinati quello che io uspicherei e che va più nella direzione di quanto scrive nel libro di Vico è che la politica si incarichi di sgombrare il campo cioè di preparare il terreno e quindi che agisca in maniera seria sul livello di tassazione dell'impresa sulla semplificazione e sulla lotta alla burocrazia favorendo la crescita dimensionale delle imprese dipattendo anche sugli aspetti che sono molto legati alla competitività perché una delle ragioni per le quali ci sono pochi investimenti esteri sono dovute anche alla fariginosità del nostro sistema legale soprattutto sulla parte civile sulla incapacità di valutare quali sono i costi indotti di un investimento diretto in Italia che è un paese complicato è ritenuto complicato forse al di là dei suoi demeriti forse al di là dei suoi demeriti però questo io credo che debba fare un governo per fare questo ci vogliono delle persone che stiano al governo per alcuni anni seriamente che non cambino idea che si preoccupi non soltanto di annunciare un provvedimento o di farlo approvare ma poi di seguirlo in tutta la sua trafila di enforcement che è più lunga che arriva fino a dei regolamenti attuativi perché io devo dire da giornalista economico un po' arruginito forse non soltanto economico ma io ho perso il conto della quantità di provvedimenti che per esempio sono stati diretti ad agevolare le assunzioni in decontribuzione delle imprese italiane ho perso il conto cioè fermiamoci un attimo anche perché poi forse De Vincenti potrà illuminarci su questo poi si scoprono siccome abbiamo rilanciato la tradizione orale nell'attività di governo e non si scrive più quasi nulla che francamente è anche un aspetto devo dire innovativo nel senso che rilanciando la tradizione orale ci si può smentire e si può dire come peraltro diceva a suo tempo un noto statista che siamo solo noi giornalisti che capiamo male quindi riferiamo male che spesse volte accade ma non sempre anche perché il calcolo delle probabilità si applica anche alle nostre inefficienze allora forse bisognerebbe essere un po' più seri decidere poche cose ma portarli a termine cioè fare in modo che quelle poche cose cambino la vita quotidiana delle imprese e delle famiglie ecco quello è il sussulto di serietà che chiederei diciamo ad una politica di governo quindi chiudendo insomma oggi noi ci poniamo il problema che il cavallo cosiddetto non beve anzi forse a questo punto è già negato vista tutta la liquidità che viene sparsa a piene mani dalle banche centrali dobbiamo porci il problema se il cavallo esiste ancora visto che l'industria manifatturiera italiana sulla quale noi ci reggiamo è un'industria che ha perso quanto il 20-25% della propria capacità produttiva e forse una delle ragioni per le quali non c'è ripresa è che a un certo momento insomma c'è più c'è più bisogno di ricostruzione che di ripresa perché poi alla fine non c'è tantissima capacità inutilizzata che in altri momenti storici dava una maggiore reattività del sistema rispetto agli stimoli interni ed esterni insomma quindi da questo punto di vista io credo che insomma si debba in qualche modo rilanciare una certa fiducia con una certa chiarezza la politica economica faccia le cose fondamentali ricrei una certa fiducia diffusa soprattutto anche nella certezza delle regole perché guardate che sul piano fiscale quello che è accaduto è che la confusione nell'applicazione delle norme specialmente a livello locale ha fatto salire una sorta di aliquota formale che magari il pubblico pensa che sia addirittura più alta della realtà proprio perché sconta la difficoltà di pagare e di non sapere quanto dover pagare questo è per esempio uno degli aspetti sui quali abbiamo ragionato poco anche noi negli ultimi tempi per cui io sono d'accordo di più con la tesi di Dario Di Vico sono più per la creazione diciamo di una serie di misure on the road e mi accontenterei semplicemente che il governo mi aggiustasse le buche grazie 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 di parole che erano ormai disuete che erano la politica industriale che sono state tanto colpabilizzate nel passato e credo che sia importante e bello da leggere per questo io ho trovato un po' anche quello che diceva il presidente Marchetti diciamo le divergenze ci sono ma poi confluiscono non so se sono le convergenze parallele che a suo tempo Moro aveva indicato c'è un barese è un barese e quindi quando perché sia Viesti che dice ma poi la politica industriale è adattamento in qualche maniera delle cose che uno ha o farla on the road poi alla fine arriviamo allo stesso risultato e io ho qualche difficoltà a mettermi su uno dei due piani perché poi la politica industriale quella anche passata quella di cui ci vantiamo quella degli altri paesi che hanno fatto la mia domanda è è mai esistita io sono nato nel 41 quindi mi ricordo abbastanza gli anni 50 e 60 c'era una politica industriale durante quegli anni cioè sapevano che facevano politica industriale quelli che hanno fatto politica industriale che noi decantiamo oggi c'è un tra le opere di uno scrittore francese del secolo passato a Féjary Ubourois che forse qualcuno conosce a un certo punto chiede che cos'è la prosa e gli spiegano che cos'è la prosa e lui dice perbacco faccio della prosa senza saperlo perché parlava ecco la politica industriale è stata fatta da persone che hanno affrontato i problemi del momento e poi nel passato ex post l'abbiamo chiamata politica industriale io mi ricordo quando ero direttore della confindustria incontravo vari personaggi noi avevamo il mito dei giapponesi che con il loro ministero il miti come si chiamava aveva una capacità di politica industriale quindi cercavamo di riprodurre questo fenomeno poi un giorno incontravi i giapponesi i quali mi disse voi si avete una politica industriale io accidenti a piacere e qual è la nostra politica industriale ma c'è le delice per questo che esportate tanti di questa cosa andare benissimo nelle esportazioni e di fatti noi andavamo benissimo nelle esportazioni che poi fosse lice il fattore che ci faceva crescere le esportazioni oppure si magari perché effettivamente era uno strumento a servizio degli esportatori ovviamente gli esportatori si lamentavano però la politica industriale è più facile definirla ex post che non ex ante o durante perché poi in realtà come viene detto da entrambi è un problema di cultura è un problema di riflettere sulle proprie azioni e cercare di capire che riflessi hanno le proprie azioni le proprie scelte su quelle che sono gli assetti produttivi di domande di sviluppo di un paese allora io porto due esempi di politica industriale involontaria che noi abbiamo fatto nel corso degli anni uno positivo e uno negativo quello negativo sono state le privatizzazioni le privatizzazioni nel nostro paese sono state fatte con l'intento di creare dei campioni nazionali che rimanessero e che cosa abbiamo assistito che le grandi imprese italiane hanno adesso dico un po' in maniera esagerata hanno svenduto le loro vecchie aziende che operavano sul mercato e si sono andate a rifugiare dentro le public utilities che erano attività protette qualche esempio vale la Fiat si è messa a fare l'energia a comprare l'energia la Pirelli si è comprata Telecom Benetton che noi pensiamo sempre che faccia pullover e maglietti in realtà fa autostrade autogrill aureoporti e cose del genere e paradossalmente tranne il caso Benetton che per fortuna è l'unico che si è mantenuto le aziende da cui c'erano i soldi che sono serviti per comprare le public utilities si sono sgonfiate e sono state cedute all'estero e noi ci siamo ritrovati con dei campioni che campioni tanto non sono perché non è che la Telecom sia un grandissimo campione con tutti i problemi che pone non è che nell'energia abbiamo grandissimi campioni e così via lì abbiamo veramente sbagliato però c'è stata un'altra politica industriale indiretta che invece è andata molto bene secondo me anche se l'abbiamo considerata male la decisione di entrare nell'euro e quindi di smettere con le svalutazioni questa è stata una politica industriale sotterranea ma che ha portato a un upgrading del valore delle produzioni italiane molto forte c'è stata una rivoluzione nell'industria italiana un po' Dario Di Vico la racconta e la dice in alcune delle sue cose ma se noi andiamo a guardare le nostre imprese italiane noi continuiamo a produrre gli stessi prodotti di prima cioè siamo negli stessi settori ma abbiamo abbandonato le produzioni di grandi volumi e di basso prezzo e ci siamo spostati sulle produzioni di bassi volumi alto prezzo paradossalmente l'istituto centrale di statistica non è riuscito a capire questo fenomeno e all'inizio ce lo ha contrabandato come grossa riduzione della produzione e aumento dei prezzi perché è ovvio che se io faccio che ne so migliaia di paia di scarpe di basso valore poi a un certo punto faccio soltanto scarpe da donna di alto valore avrò molto meno volumi ma molti più alti valori ma non sono prezzi sono valori e noi questo fenomeno lo abbiamo fatto durante gli anni che vanno dalla metà degli anni 90 fino al 2006 2007 e stavamo andando bene la ristrutturazione italiana si stava avviando bene di fatto nel 2006 2007 noi abbiamo avuto una crescita dell'economia italiana delle esportazioni e di tutto quanto poi è venuta la grande crisi mondiale e lì veramente siamo andati di nuovo in barca tutti quanti ma quello è stato un esempio di ristrutturazione perché l'idea di entrare nell'euro significava abbandonare le svalutazioni e entrare in un'area di bassi tassi di interesse che sono quelli che hanno consentito alle imprese di ristrutturarsi e di procedere ed andare avanti io credo che una politica industriale in Italia possa essere fatta se si evita di fare una politica di settore questo non la vuole nessuno non la vuole Gianfranco Viesti sicuramente non la vuole Dario Di Vigo ma si faccia una politica della domanda ecco su questo io mi trovo più vicino a Gianfranco Viesti prima ero più vicino a Dario Di Vigo però mi trovo più vicino a Gianfranco Viesti quando penso che è la domanda pubblica quella che attiva le imprese innovative e le fa crescere un paese non cresce perché gli italiani comprano più cravate più camice o più scarpe cresce se noi abbiamo dei buoni trasporti cresce se abbiamo una buona sanità cresce se abbiamo una buona istruzione e stiamo decisamente meglio quindi una vera politica industriale come la fanno anche in altri paesi è quella dove si cerca di sviluppare alcuni servizi pubblici collettivi perché badate che noi vogliamo l'industria manifatturiera ma il grande consumatore di prodotti manifatturieri avanzati non è il consumatore persona sono i servizi sono i servizi pubblici e i servizi quelli che consumano e domandano prodotti di alta tecnologia è la sanità che domanda macchinari e farmaci molto di grande livello sono i trasporti che chiedono tecnologie nuove di segnalamento di organizzazione e quant'altro al limite se uno va al ristorante consuma una tecnologia di prodotti molto più elevati che se mangia a casa propria dove continua a cucinare con le vecchie pentole che c'è dentro casa mentre un ristorante moderno è costretto a rinnovare il suo apparato di produzione in tempi più rapidi e cercherà sempre di avere qualcosa di molto più moderno quindi è lo sviluppo della domanda di servizi quella che genera una grossa crescita dell'industria manifatturiera invece pensare che noi dobbiamo andare solo sulla manifatturiera è completamente sbagliato per fare questo sono necessaria una domanda pubblica io personalmente sono contrario all'abbassamento delle tasse del nostro paese continuo a pensare che convenga aumentare la spesa pubblica specie in una fase come l'attuale per poter indirizzare questa spesa pubblica verso domande che ci servono e dall'altro lato un po' di regolazione come in tutti quanti i mercati moderni se io metto delle regole che servono a migliorare la vita dei cittadini ottengo anche una domanda innovativa nuova e che cresce faccio un esempio banale e mi fermo lì se ci fosse nel nostro paese una legge che obbligasse il rifacimento delle facciate degli immobili o in periodica ogni x anni noi avremmo una domanda di rifacimento che praticamente è prevedibile dalle imprese essendo prevedibile dalle imprese le imprese si strutturano assumono sviluppano tecnologie avremmo delle città decisamente più belle eviteremmo di avere dei morti per i cornicioni che cadono come spesso avviene favoriremmo il turismo avremo uno sviluppo decisamente più forte pensate a quello che potremmo fare se questo paese decidesse di mettere in sicurezza che ne so contro i terremoti tutto il nostro territorio c'è il lavoro per 40 anni chi paga questa roba la dovrebbero pagare i proprietari degli immobili perché salvare un immobile o renderlo più efficiente spetta a chi è proprietario perché investe in se stesso poi lo Stato può anche dare un piccolo contributo di detassazione può dare dei mutui agevolati ma c'è lo spazio l'ambiente è un altro settore cioè bisogna fissare delle regole per raggiungere degli obiettivi di maggiore efficienza e di maggiore qualità di vita se noi facciamo questo noi creiamo lo spazio per creare nuove imprese nuove tecnologie e diventiamo noi i produttori di queste tecnologie così come abbiamo costruito strade in Italia e poi le abbiamo esportate e domani possiamo esportare queste tecnologie solo se le facciamo a casa nostra grazie grazie beh devo dire che il professor Cipolletta ha cominciato a dire adesso sotto questo aspetto capisco bene la posizione di Di Vico eccetera alla fine ha preso una posizione di una certa diciamo robustezza in un senso perché sia la crescita della domanda pubblica di servizi sia la crescita regolatoria che induce quindi adeguamenti e quelle cose non sono cose da poco e adesso arriva un protagonista e una voce fondamentale perché il vice ministro ha lo sviluppo economico allora uno viene a dire politica industriale in un certo senso se non lì dove tanto più che è chiamato in causa il ministero varie volte diciamo tutti questi progetti questi tavoli che avete negli anni allestito per risolvere crisi eccetera cosa è venuto poi fuori di nuove imprenditorie di nuove idee e di nuovi sviluppi prego grazie presidente prima di tutto grazie dell'invito e grazie della possibilità di commentare questo libro che io ho letto d'un fiato perché è bello è divertente è vivace è il confronto tra posizioni in parte diverse in parte mi sono divertito a pensare punti tra le due posizioni ma credo che poi gli autori stessi li abbiano in mente e infatti io sono un po' imbarazzato io non saprei dove fare il giudice io avevo pensato di fare un intervento in cui dice vedi qui i punti l'abitudine al compromesso introiettata negli ultimi tre anni di attività di governo direttamente mi ha un po' traviato però io ci tengo a questo aspetto perché credo che come dire le due anime che ci sono state presentate da Gianfranco Viesti e da Dario Di Vico non solo si possono ma si debbano parlare e vi dico anche con molta onestà che nella mia esperienza quotidiana dentro di me quelle due anime si parlano continuamente quindi io vi riporto un po' quello che mi succede allora la politica industriale è on the road a me piace molto questa idea Dario mi piace molto la tua attenzione alle dinamiche spontanee sui mercati delle capacità delle imprese degli operatori gli operatori che si muovono nel mercato che spesso lo trasformano anche in modo molto forte come tu metti in luce io devo dirvi che a me succede nella mia attività quotidiana di essere anch'io on the road nel senso che anch'io faccio delle mosse di governo anch'io vado avanti spero la cosa non vi spaventi ma è così inevitabilmente per prove ed errori ci possono essere delle iniziative di politica industriale perché poi a me fa un po' rabbia quando mi sento dire non si fa politica industriale da anni in cui sei sto provando a farlo da tre anni ma comunque pace non ci sono riuscito e poi ovviamente le cose sono più grandi di ognuno di noi ma voglio dire che l'idea che il governo al di là del sottoscritto il governo è on the road tutti i giorni il governo prende delle misure possono essere giuste efficaci efficienti ottenere i risultati voluti e possono alle volte essere anche sbagliate siamo on the road esattamente come lo è qualsiasi operatore di mercato siamo più pesanti di un operatore di mercato siamo grossi abbiamo il il dovere della continuità amministrativa il che significa che i nostri apparati spesso critichiamo la burocrazia guardate sono il primo a farlo eccetera io vi posso assicurare però che c'è una dimensione che magari la burocrazia italiana ha molto da imparare da altri paesi però insomma c'è una dimensione di continuità amministrativa che rende inevitabilmente anche faticoso il nostro lavoro e contemporaneamente questa macchina così grossa ogni giorno fa a tanti livelli delle mosse sui mercati è on the road e qui trovo una vicinanza con quello che dice Gianfranco Viesti quando dice alla fine ce lo diceva nel suo intervento di prima la poligia industriale non è una legge non è un atto la poligia industriale è una processo è un processo on the road appunto di prove ed errore lo Stato da questo punto di vista l'intervento è lo Stato in tutte le sue articolazioni eccetera insomma centrali locali eccetera insomma è un giocatore esattamente come lo è un operatore di mercato con dei poteri diversi ha dei poteri autoritativi però è un giocatore è un giocatore che fa un gioco strategico nei confronti di altri giocatori gli operatori di mercato dalle imprese alle famiglie ai lavoratori eccetera che fanno le loro associazioni rappresentative e che fanno le loro mosse strategiche siamo on the road e al di là della pesantezza della continuità amministrativa spesso poi quello che cambia sono alcune azioni che per nostra fortuna ogni tanto imbrocchiamo e che poi segnano delle svolte c'è un pezzo molto bello della parte di Dario di Vico che riguarda l'operazione Ansaldo Energia prima Ferruccio De Borto gli ha citato una operazione pessima di politica industriale che fu quella di ormai a se ricordo bene a diversi anni alle spalle non so contarli perdonatemi che fu quella della vicenda all'Italia di diversi anni fa e consentimi di citare un'operazione di politica industriale che è la cessione di Ansaldo Energia che è avvenuta giusto un anno fa giusto un anno fa fondo strategico rileva l'85% di Ansaldo Energia da Finmeccanica non entro adesso nei particolari perché non non ci sarebbe il tempo segnalo solo che fondo strategico nel fare questo non tiene poi lì bloccato la partecipazione ma cerca un partner industriale internazionale che faccia di Ansaldo Energia una rafforza di Ansaldo Energia facendola diventare il perno di un sistema globale il suo perno in Europa e quindi Ansaldo Energia come il centro dell'attività di questa nuova configurazione di questo nuovo soggetto in Europa e contemporaneamente aprendo gli altri mercati per esempio il mercato cinese che sappiamo che ha una prospettiva di crescita della domanda di turbine notevolissima allora io credo che questa sia stata una grande operazione di politica industriale è entrata poi Shanghai Electric come ricorda Dario con una partecipazione al 40% all'interno di questa società questa è una grande operazione di politica industriale però attento Dario questa è politica industriale perché è vero che fondo strategico ed è giusto che sia così è un soggetto non solo privato ma market oriented però ricordiamoci che fondo strategico è partecipato alla Cassa Depositi Cassa Depositi io non sono d'accordo con quello che tu hai detto prima è un pezzo della pubblica amministrazione no per nostra fortuna no Cassa Depositi a sua volta essendo pure essendo partecipata grandissima maggioranza al Tesoro ha un diaframma istituzionale molto importante che divide le decisioni di Cassa Depositi che deve misurarsi con convenienze di mercato nelle varie attività che ha anche negli orientamenti che dà a fondo strategico queste decisioni che sono in rapporto col mercato e contemporaneamente c'è un potere di indirizzo del governo c'è un diaframma istituzionale che non era ben definito a suo tempo con le partecipazioni statali e che forse è uno dei motivi per cui le partecipazioni statali che hanno una storia che io giudico gloriosa poi sono finiti invece in modo tutt'altro che glorioso nel momento in cui quel diaframma non essendoci quel diaframma le scelte di partecipazioni statali non sono state più scelte che rispondevano alla fine a criteri di mercato ma ad altri criteri allora noi dobbiamo fare in modo che noi dobbiamo essere consapevoli che il diaframma istituzionale con Cassa Depositi c'è è bene che ci sia separa la politica dall'attività manageriale del management di Cassa Depositi e ancora di più giustamente c'è un ulteriore diaframma che porta a fondo strategico però questo cosa significa che quella di fondo strategico su un saldo energia è stata una scelta di strategia industriale di fondo strategico ma io la rivendico anche permettetemi come una scelta di politica industriale perché voi mi consentite una qualche interazione il governo nei suoi poteri di indirizzo e non in altro modo l'ha avuta sia nei confronti di Finmeccanica del modo in cui Finmeccanica faceva quella cessione in quanto azionista di riferimento per un verso e in quanto responsabile della politica industriale del paese per altro verso il governo e sia nei confronti di Cassa Depositi e poi tramite Cassa su fondo strategico un certo potere di indirizzo se quell'operazione non fosse stata conveniente per Cassa e per Fondo Strategico e per Finmeccanica non si poteva fare il diaframma tiene Finmeccanica ha valutato la cosa nel suo CDA valutando la convenienza per gli azionisti che non sono solo lo Stato e la stessa cosa è valsa per Cassa Depositi e per Fondo Strategico e qui distingo tra strategia industriale e politica industriale le operazioni che tu chiami politica industriale io le chiamo di strategia industriale bellissime ne hai citate di bellissime se penso alla San Pellegrino cose del genere la politica ammetto che c'entra un po' di mezzo l'intervento pubblico io quando uso quel termine ci metto un po' in mezzo l'intervento pubblico una qualche responsabilità del governo allora qui ho accennato a un punto uno solo dei punti della politica industriale il rapporto con le partecipazioni pubbliche e credo che qui dobbiamo rivalutare questa funzione delle partecipazioni pubbliche perché l'operazione un saldo energia ripeto è una grande operazione per il paese per l'industria italiana e contemporaneamente dobbiamo stare molto attenti a non ricadere nelle corne in ciò che ci portò al fallimento delle partecipazioni statali negli ultimi anni della loro esistenza allora c'è un problema di diaframma istituzionale di governance di capacità di fare una politica industriale nel mercato e non contro il mercato e non c'è solo allora l'uso delle partecipazioni pubbliche la stessa le stesse liberalizzazioni sono un pezzo di politica industriale anche se rispondono a una logica più generale di corrette regole di funzionamento del mercato ma qui lo dicevano prima Cipolletta e Marchetti beh qui c'è un punto molto importante cioè non è che il mercato le sue regole se le dà da solo la rivoluzione le rivoluzioni borghesi hanno consentito di costruire le regole dei mercati e poi abbiamo continuato dopo a costruire regole per i mercati e non solo costruiamo regole allora il punto è come la politica costruisce le regole corrette affinché sui mercati si dispieghi la concorrenza perché sappiamo che il mercato senza quelle regole non va verso la concorrenza quindi la concorrenza è il prodotto di una interazione tra la politica e il mercato laddove la politica è consapevole di ciò che deve fare e qui c'è l'esempio massimo che abbiamo i mercati monetari la banca centrale è un prodotto della politica la banca centrale è un soggetto chiave per far funzionare i mercati monetari e finanziari senza banca centrale funzionavano molto peggio o comunque hanno funzionato per un periodo storico e poi non ce la facevano più se non facevamo le banche centrali poi la storia cambia non è che c'è l'interno pubblico è sempre lo stesso o è sempre necessario in un stesso modo c'è una storia i mercati monetari hanno potuto funzionare a lungo senza una banca centrale poi a un certo punto però c'è voluta la banca centrale e meno male che le abbiamo fatte naturalmente stiamo parlando della quintessenza dell'intervento pubblico nel mercato per il mercato in un rapporto di interazione positiva con il mercato questo è il tema al centro di qualsiasi banca centrale nei paesi avanzati ecco io credo che di queste cose ne abbiamo bisogno sul mercato dei prodotti e non solo sui mercati finanziari e così via questo mondo delle regole è il mondo entro cui poi i giocatori giocano e io rivendico che c'è anche un giocatore che si chiama intervento pubblico naturalmente se quel giocatore ritiene lupus in fabula se quel giocatore ritiene di poter fare a meno delle regole va a sbattere come è successo in passato se quel giocatore intervento pubblico sa che le regole valgono anche per lui sa che è bene stare dentro quelle regole è bene costruirle bene e poi saperci stare dentro beh allora quel giocatore ha da dire la sua e guardate che non è che poi termino non è che se riduncia a dire la sua per esempio a fare delle scelte allocative per esempio a fare infrastrutture tutte le cose diceva Enzo Cipolletta prima non è che si rinuncia a fare quelle cose quel giocatore semplicemente si astiene e non fa guai no fa una scelta precisa le fa fare ad altri dopo di che è meglio o è peggio discutiamo discutiamo se è meglio intervenire in modo consapevole e quindi anche prepararsi a intervenire prepararsi a far valere l'interesse generale nei confronti degli interessi particolari oppure lasciare gli interessi particolari facciano quello che vogliono e attenti perché quando ci mettiamo in questa seconda logica quegli interessi particolari agiscono spesso attraverso la stessa pubblica amministrazione non solo attraverso gli operatori privati perché la pubblica amministrazione è fatta di soggetti che hanno come diciamo noi economisti anche loro le loro agende private hanno anche loro i loro obiettivi privati allora rinunciare a intervenire significa semplicemente lasciare che le agende private anche interne alla pubblica amministrazione facciano ciò che vogliono accettare che un dovere di un governo democraticamente eletto porsi il problema di intervenire significa rapportarsi in modo corretto al mercato la novità rispetto a tanti anni fa anni che io ho conosciuto perché più o meno me la batto con Enzo beh la differenza è qui cioè nell'idea che io sono un giocatore che mi rapporto con il mercato e non penso di essere uno che può disinteressarsi di come il mercato risponderà ha le sue scelte grazie grazie c'è aria un po' arbitrato di equità qui giuria quella che poi compensano un po' le spese per ripartire le ragioni eccetera ma io direi che adesso risentiamo i protagonisti in ordine inverso avendo acquisito alcuni punti comuni mi sembra che politica industriale nel senso dell'intervento pesante della proprietarizzazione eccetera sono cose passate che è passata la politica industriale nel senso assistenziale ma è semmai una politica pro mercato eccetera come mi sembra che sia stata ammessa anche da direttore De Bortoli defensor pure più deciso di Di Vico quando dice beh però insomma un intervento sulla tassazione un intervento sulla disciplina della burocrazia un intervento su incentivi di competitività hanno il loro peso e allora forse è un po' una questione terminologica pure interventi sono seppur di regole di un mercato o quando lo stesso Di Vico dice le multinazionali e multinazionali certo non si demonizzano si accolgono benvengano però bisogna anche preparargli un certo ambiente e un certo sistema e quindi parla di negoziazione con le realtà locali perché se arrivo a aprire una catena di supermercati e le autorizzazioni sono 92 o 107 e ci mettono 18 anni è chiaro che il discorso è chiuso insomma detto questo e quindi effettivamente eliminate alcune concezioni diciamo e alcune posizioni più estreme risentiamo i nostri protagonisti questa volta cominciando da Dario di Vico allora alcuni punti sparsi uno la questione delle privatizzazioni lo penso da un po' ma anche sentendo questa discussione in fondo noi non abbiamo maturato di quella stagione un giudizio approfondito e condiviso diciamo un po' quella cosa che anche Enzo ha detto e quindi che gli imprenditori si sono in qualche maniera allontanati dalle loro imprese attratti dalla possibilità di diventare protagonisti della rendita però non funziona Enzo cioè ce la raccontiamo Francesco Giavazzi l'ha scritta 32 volte però ci vuole di più di questa cosa perché poi non è proprio del tutto così perché poi delle cose perché in fondo Autogrill è diventata una multinazionale fantastica quindi uno dice perché Autogrill sì e quell'altro no perché era più semplice vabbè d'accordo certo le telecomunicazioni era più difficile però secondo me e guardo appunto Presidente Marchetti su questo tema delle privatizzazioni che è venuto fuori ci manca forse ancora troppo presto non lo so una riflessione un po' più approfondita anche sui comportamenti degli imprenditori che ci sono stati perché prendete l'altro caso delle autostrade per carità poi non gli abbiamo fatto fare autostrade a Bertis cioè badate che oggi se si fosse fatta autostrade a Bertis con la situazione che c'è stata noi avremo un grande gruppo infrastrutturale a conduzione italiana cioè quindi adesso per carità cioè c'è molto da lavorare su quel terreno lì mi veniva in mente perché non c'è un giudizio siamo rimasti tutti a quella cosa lì certo perché non ci piaceva che dei campioni del mercato fossero diventati dei campioni della rendita poi analizzando le singole situazioni secondo me è un po' diverso ed è un materiale forse da fare seconda osservazione Claudio De Vicelli non ha detto niente su Industria 2015 quindi per chi tace consente quindi posso come dire strumentalmente dire che è d'accordo con tutte le cose che ho detto o se comunque invece vuole 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 replicare perché anche lì è necessario secondo me dato che poi questi lavori si fanno proprio per arrivare un passetto più in avanti delle cose che scriviamo di corsa anche su questione Industria 2015 la mia è una forte provocazione poi probabilmente una volta incontreremo anche Bersani in uno di questi dibattiti è previsto e sarà interessante appunto capire da lui che è stato il protagonista per ripeto non per le giurie che ovviamente le montiamo per divertirci quel pizzico che ci è permesso ma proprio per fare un passetto in avanti è interessantissimo ripercorrere l'Industria 2015 laddove è fallita che intendimenti c'erano che cosa non è andata appunto perché non è colpa di scaiola solo e così via terzo punto dice De Vincenti attenzione tu parli di una strategia industriale perché se usi il termine politica non puoi non intendere il soggetto pubblico giusto no giusto questo ma se io ti dico che io Nestlé ti dico che voglio puntare su pizza butoni lo dico su un giornale come il nostro insomma abbastanza letto può essere che nessuno telefoni a Donestlé del soggetto pubblico e gli dica ma non lo so arpo non dico siamo qui e fate quello che voglio ma insomma come dire ci interessa molto visto che pizza butoni è in campagna nessuno ha telefonato a Donestlé allora non lo so Claudio se appunto io il mio tentativo di delineare per carità sulla carta una politica industriale senza stato è veleitario però quando vedo degli esempi concreti sono io che richiamo l'azione del governo cioè avrei dovuto chiamare e dire beh dato che lei fa un meritorio investimento in campagna in attesa di farle un monumento più in là quando sarà più in là con gli anni nel frattempo vediamoci discutiamo due cose perché per noi la campagna è come dire sangue del nostro sangue perché significa bonificare una grossa struttura come una multinazionale è un presidio anche contro tutte le cose che sappiamo e così via se non avviene è singolare che nessuno telefona Nestlé e quindi non fa il ruolo del pubblico però il ruolo del pubblico lo vuole disegnare l'aerospaziale di quarto tipo di settima generazione è singolare capisci come dire quasi è come dire mi viene da dire che in fondo la battuta del demiurgo ministeriale è ci vuole ben altro che la pizza buitoni e tant'è vero che non fa nemmeno quella ecco in questo senso allora sono strategie industriali in cui come dire presuppongono sempre come dire una sponda intelligente del soggetto pubblico in tutte le forme di questo mondo come sono state alcune delineate dal direttore De Bortoli ma sono venute poi fuori quarto punto l'Europa mi rendo conto che è complicatissimo io sono in attesa sono un fan del piano Juncker perché mi diverto da pazzi vedere come va a finire questa questione dei 300 miliardi di Juncker che è meravigliosa perché adesso poi Katainen ha detto che i 300 miliardi non sono pubblici ma sono privati cioè che cosa succede quindi che dei privati fanno un fondo che fa delle che cosa fa che prodotti fa delle cose che non abbiamo allora quindi sono abbastanza e temo che quella cosa finirà come dire a un figlio un figlio tardivo del piano dell'ordine tutte quelle cose che ci sono riempiti e non sono mai finite sull'Europa però la cosa interessante non è venuta fuori nella discussione c'è nel libro è questa io ho esaminato per Katainen non ho grandi esami ma le ultime tre operazioni significative che noi abbiamo fatto non di politica industriale ma di passaggio di proprietà la Whirlpool scusate l'Indesit è passata alla Whirlpool la fabbrica di compressori ACC di Belluno è passata ai cinesi di Huambo e all'Italia è passata adesso permettetemi la semplificazione a Etihad ma badate non c'è nessun europeo e è significativo che quando sono state discusse le cose della Indesit si diceva tutti la Bosch no quando si parlava di Alitalia tutti Air France no e va bene nel caso dei comprensioni di verde cioè è significativo che dentro un ragionamento di questo tipo noi temiamo che i nostri fratelli europei prendano le nostre imprese perché in realtà sappiamo che loro sono più interessati al nostro mercato ma distruggerebbero quel brand mentre ben venga l'arabo ben venga il cinese ben venga anche l'americano che in realtà forse perché come dire deve imparare un po' della nostra cultura industriale ci promette sviluppo tant'è vero che tutti oggi siamo convinti non c'è nessuno penso forse nemmeno l'ambasciatore francese che è convinto che ETIAD sia una scelta sbagliata e sarebbe stato meglio la Francia perché ETIAD promette di valorizzare il marchio all'Italia che insomma diciamo così sinteticamente ne ha bisogno no Whirlpool e Indesit se ci fosse stata Bosch Bosch avrebbe fatto strame di Indesit e così beh è singolare tutto ciò se ci pensate adesso ci vorrebbe il professor Mario Monti e le sue riflessioni sul mercato unico sarebbe l'interlocutore più giusto però è veramente singolare quando c'è tutta questa discussione sull'Europa ma cioè come dire noi siamo per l'Europa siamo per un piano di investimenti europei ma mi raccomando quando arrivano le imprese europee scappiamo perché 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 se no ci ammazzano e questo è anche un'altra contraddizione per cui non possiamo nemmeno fare il ragionamento che spostiamo a un livello più alto no le questioni cioè che che punto tutte le nostre amnesie ci vengono risolte invece da scelte europee coerenti e così via un ultimo punto che vorrei dire è la questione delle piccole imprese e di una cosa che noi non abbiamo parlato delle piccole imprese di oggi diciamo non vi tedio con quelle di ieri quelle di oggi cioè tutto quel movimento che poi come dire è start up e così via io lì sottolino una cosa molto interessante che oltre alle start up ancora più interessante di questo fenomeno che per carità poi è significativo ci sono quelli che nel gergo si chiamano gli spin off cioè in sostanza il rapporto che dalle università nascano spin off universitari scusate che dalle università nascono le imprese no perché questo è un elemento sul quale noi stiamo molto dietro in cui va benissimo appunto la capacità imprenditoriale dei giovani smanettoni e quindi vanno fatte tutte le cose necessarie per però evidentemente che noi ancora troppo poco io lì do qualche dato che non ricordo precisamente qualcosa si muove però gli spin off universitari cioè se in qualche maniera se i piccoli di ieri erano gli artigiani ex operai e così via i piccoli domani possono essere i professori universitari quindi la viesti i professori universitari perché da lì noi abbiamo bisogno e questo io lo vedo anche come sostituto dello Stato siccome per carità tu dici vuoi solo pizza buidoni eh no che non voglio solo pizza buidoni voglio anche come dire nelle nuove tecnologie nei settori d'avanguardia ma mi domando sempre più che dallo Stato perché non facciamo non le facciamo partire dalle università e da come dire tutto sommato ci sono università che sono più vicine alle imprese no per esempio che ne so Padova è una grande università del Vento culturalmente più vicina alle imprese se voi andate a chiedere che tipo di dialogo c'è è zero zero meno di zero e così via sì i professori fanno dei bellissimi paper sul nord-est ma poi voglio dire non c'è dialogo ecco da lì forse possono nascere nuovi piccoli e possono anche giustamente come dire colmare quella necessità di nuove iniziative nei settori avanzati che noi chiediamo a uno Stato che non potrebbe farle perché adesso faccio una battodaccia di casa tua voi dimenticate tu non ascoltare però io vi devo ricordare una cosa che Zanonato Flavio Zanonato fu fatto ministro dell'industria non perché Flavio Zanonato avesse particolari competenze un curriculum significativo ma perché così si metteva in vetrina e avrebbe potuto contendere a Luca Zaia il governatorato del Veneto tanto per capirci perché se no lo so tu fai finta di non sentire no se no ti metto in difficoltà va bene lo so però capire però succede così però succede così però succede così nel senso che è una mia tesi perfetto scusami è una mia tesi però è significativo perché quando noi parliamo di uno Stato se no parliamo di uno Stato tutti abbiamo in mente che ne so Schumpeter Obama già nemmeno quello cioè chi poi parliamo di uno Stato fatto di ministri di cose cos'è e io vi riferisco un episodio avvenuto non dalle parti di Scaiola tanto per capirci ma da altre parti che anche lì quando uno deve dire allora il ministero quello che ho raccontato è che non si può dire tanto basta Presidente grazie a lei ai giurati per il garbo e la cortesia nel giudicare cioè giocando fuori casa pensavi di andar peggio no 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 non è fuori casa è che diciamo io ho la mia idea e cioè che le politiche pubbliche non sono una bestemmia sono una cosa importante che si fanno in tutta Europa che pensare che farle meglio è una cosa opportuna che in tema di industria non basta quello che si fa intorno all'industria ci vuole anche qualche intervento che accompagni l'industria tesi fortemente minoritarie in questo paese che però vedo che un po' percola perché giustamente la discussione è andata su temi molto più alti di contorno poi è scesa su temi come gli spin off o le Claudio De Vincenti ricordava le cose che si stanno facendo e quindi tutte le normative nuove sulle start up imprenditoriali che sono una cosa comunque interessante insomma tutto sommato ce la siamo cavata nel senso di ingaggiare una discussione che io credo utile poi non siamo d'accordo viva viva e viva chi di noi può pretendere di avere diciamo il dogma e la verità non è questo quello che serve all'Italia non è gente che arriva con i dogmi ma gente che arriva discutendo tre battute ciascuna su un commento di uno dei giurati e poi mi quieto assolutamente d'accordo col direttore De Bortoli che di annunci non ne abbiamo bisogno abbiamo tutti letto il suo famoso fondo sul Corriere molti di noi lo hanno fortemente apprezzato non è di questo che stiamo parlando la politica industriale è un processo un processo che richiede tempo che non si traduce solo in atti di legge ma anche in comportamenti Dario evocava chi deve telefonare a chi e che non ha direttamente a che fare con gli assetti proprietari io tocco il tema tocco il tema l'Italia in un passo del libro dove cito un libro molto pungente scritto da un suo collega nel quale mi pare che viene sostenuta anche la tesi che lei sosteneva ma tocco in generale il tema degli assetti proprietari io sono stato molto colpito dai volumi della storia dell'Iri che sono stati recentemente pubblicati alcuni dei curatori sono qui in sala li trovo cibo per il pensiero molto importante per capire pregi e difetti del sistema e della storia che abbiamo avuto non leggiamo la storia con le lenti dell'ideologia leggiamo la storia con le lenti della storia e possiamo trovare un sacco di elementi di riflessione io poi mi auto vaccino da solo proprio con l'Alitalia perché ritengo che l'Alitalia pubblica sia stata il peggior nemico del turismo in Italia in particolare del turismo al sud nel senso che è stata a differenza delle altre linee aeree europee una linea che col suo sistema di voli abbia tarpato le ali diciamo della nota vicenda per cui nelle Baleari ci sono 15 volte i turisti che ci sono in Spagna uno dei principali motivi è che lì ci arrivavano con gli aerei in Sicilia no poi ce ne sono anche altri me non importa quindi non fermiamoci sulla proprietà e ragioniamo ragioniamo sul fondo strategico c'è l'esperienza che non abbiamo toccato pur essendoci qui inocenza cipolletta del fondo italiano un investimento che è un'esperienza molto seria diciamo prendiamo esempi di pragmatismo da un paese che non è sovietico che sono gli Stati Uniti nel quale il presidente non ha esitato un attimo a fare una grande operazione su General Motors e Chrysler che ci ha lasciato tutti esterrefatti non sto affatto dicendo che dobbiamo fare quello sto dicendo che dobbiamo ragionare più laicamente è finito sono passati più di 50 anni dalla nazionalizzazione dell'Enel nel 60 dalla creazione dell'Eni diciamo torniamo a ragionare anche di questi tema in maniera più laica secondo punto quello di cipolletta qui provo anch'io pur non essendo giornalista a dire una cosa pepata credo in Italia abbiamo problemi di dizionario italiano inglese perché traduciamo la parola tagli di bilancio con spending review nel senso che un taglio di bilancio è un taglio di bilancio li stiamo vedendo li abbiamo visti e cioè a parità di assetti a parità di regole mette a disposizione meno risorse giusto o sbagliato non mi interessa quello che ci insegna l'esperienza è che tagliare le risorse difficilmente aumenta l'efficienza in genere abbassa l'efficacia la spending review è un processo indispensabile per il nostro paese perché consiste nell'ottenere migliori prestazioni a parità o se possibile a minore spesa e dunque l'operazione della spending review è un'operazione di grande intelligenza ci vuole non solo le forbici ma anche l'ago e il filo per ricucire delle amministrazioni più snelle efficaci insomma dove voglio arrivare che in tutti i paesi in cui si fa la spending review seriamente la politica dell'innovazione indotta dalla domanda pubblica è una componente fondamentale più innovazione tecnologica negli ospedali significa più trasparenza più efficienza meno spesa più innovazione tecnologica come fanno in Finlandia sul trasporto pubblico urbano significa meno spesa maggiore maggiore come si fa a Milano con queste esperienze molto interessanti che state facendo a Milano del car sharing bike sharing eccetera richiedono diciamo una capacità del soggetto collettivo del soggetto pubblico non solo di trovare il fornitore che al costo più basso gli da quello che c'ha già ma di disegnare una strategia una politica industriale che fornisca ai cittadini servizi migliori a grandi dosi di innovazione veniva evocata il libro della Mazzucato certamente gli Stati Uniti sono una realtà completamente diversa però non ci facciamo peggio di quello che siamo qualche operazione di spending review dinamica intelligente basata sull'innovazione anche in Italia tante belle cose le abbiamo fatte Claudio De Vincenti ha sottolineato un punto molto importante che la politica industriale è spesso bricolage nel senso che ha totale differenza del passato deve incorporare in sede i meccanismi di apprendimento e correzione e quindi nessuno ha la tavola dei comandamenti bisogna provare sapersi correggere saper vedere le cose io ho fatto l'esperienza personale di consigliere amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti nel periodo in cui stava cambiando e vi assicuro che quando cambiano le regole si deve fare un bricolage adattivo ci si sforza di pensare moltissimo da questo punto di vista d'altra parte Dario evocava un attimo fa i contratti di programma di sviluppo quando parlavi di Nestlé che è uno strumento che hanno tutti i paesi europei che usano con maggiore o minore efficacia sui quali diciamo abbiamo tanto apprendimento io però rimango concludendo fedele alla mia idea purtroppo e cioè che oltre a queste operazioni indispensabili e assai pragmatiche ci vuole uno sguardo lungo molti potranno dirmi non ce l'abbiamo più questo sguardo lungo temo che possiate avere molta ragione ma un professore universitario non lo può dire deve dire ai suoi studenti che lui pensa anche a loro fra 50 anni e allora se ci vuole uno sguardo lungo vengono al pettine alcuni nodi grossi ne dico uno e mi quieto che è questo in Italia stiamo vivendo un tremendo circolo vizioso le nostre università sono quelle che producono meno laureati di tutta Europa l'obiettivo che non sarà raggiunto di Europa 2020 dell'Italia è di avere il 26% di laureati nei giovani 30-34 anni che è il ventottesimo obiettivo su 28 paesi europei più basso di quella della Romania la percentuale di 30-34 anni lavorati in Lombardia che è una grande regione è poco più della metà dei laureati di Varsavia e circa un terzo no di più quasi fra un terzo e un quarto dei laureati di Londra che è una città con cui Milano ama compararsi il laureato non dice tutto però un po' di cose sempre le dice contemporaneamente abbiamo un sistema imprenditoriale che è fra quelli europei dove ci sono meno laureati da capo non intendo dire che solo chi ha il timbro vale ma molte cose che servono nelle imprese non si possono più imparare come a Sassuolo andando a lavorare entrando da apprendista la gente deve portare conoscenze nuove delle imprese questo meccanismo sta girando al contrario meno laureati meno rendimenti dell'istruzione minore ingresso di capitale umano nelle imprese allora io penso che questo sia un grande tema di politica industriale perché è un tema che da un lato si chiama troviamo un lavoro in Italia i nostri laureati brillanti prima che se ne vadano tutti ma dall'altro si chiama dato che li stiamo facendo entrare nelle imprese non stiamo facendo un'opera di carità ma stiamo lavorando con l'imprenditore perché si rafforzi lavoriamo anche su qualcuna di queste idee proviamo a confrontarci pragmaticamente se e come si può fare alziamo un po' lo sguardo in fin dei conti se alziamo lo sguardo e guardiamo indietro soprattutto da Milano vediamo un secolo di straordinaria storia dell'industria italiana proviamo a guardare avanti almeno 50 anni e a capire come può essere questa storia grazie grazie a questo punto la giuria dovrebbe voluziarmi ma credo che a parte che i temi dell'università e della ricerca meriterebbero di essere affrontati perché in Lombardia bassa è la percentuale è altissima è relativamente più alta e percentuale di laureati come parcheggio di disperazione nel futuro in certe zone e poi gli spinofoli universitari bisogna dargli un po' di innaffiarli queste università perché si crei quel giardino in cui poi puoi trapiantare fuori qualcosa e poi la mentalità io ho passato una vita all'università Bocconi il professor Viesti dice vuole un'innovazione di manager e anche di Vico di managerialità nella media piccola media impresa beh le università d'eccellenza italiana la considerano una cosa di sdicevole è questo il futuro del buon laureato dell'università italiana è andare a far finanza a Londra dove ha 45 anni poi è stritolato e il discorso finisce finisce lì quindi tanti aspetti ma se dovessi modestamente riassumere direi che dal senso del dibattito politica industriale on the road però una road che ha bisogno di qualche semaforo di qualche nuovo asfalto e magari dice di un gran faro o di qualche faro che ne illumini lo sviluppo grazie ma il discorso deve continuare perché mi sembra che sia un filone di progettazione e di così confronto di cervello di cui abbiamo bisogno grazie a tutti grazie 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 grazie